6 milioni di euro a disposizione delle aziende toscane e Umbre per ridurre i consumi energetici. Estra lancia una call per rinnovare gli impianti e abbassare le tariffe. Ci proponiamo come ESCO Energy Service Company, capace di sostituirsi all'imprenditore e fare l'investimento in termini di efficienza energetica e gestire l'impianto, abbattendo il costo di fatto e ammortizzandolo in bolletta, che ci auguriamo anche più leggera. C'è tempo fino al 15 settembre per fare domanda e chiedere informazioni, collegandosi al sito Impresa Estra Verde. Si scarica la scheda di adesione, perché si tratta di una semplice candidatura. Nella scheda di adesione è semplicemente richiesto la ragione sociale, i consumi storici che sono ovviamente nella disponibilità dell'imprenditore e la linea di intervento o le linee di intervento che l'imprenditore ritiene più calzanti per la sua situazione. Basta inviare questa candidatura per mail, cioè una casella mail dedicata. Un aiuto che arriva in un momento particolarmente critico per le imprese tessili e pratesi, in particolare per le tintorie e le rifinizioni. E' stato rivisto l'accordo che c'erano per le aziende energivore e quindi noi avevamo già dal 2013 un contributo relativo alle aziende energivore del circa dell'8%. A gennaio è stato rivisto questo e le aziende della nobilitazione sono state escluse. Rispetto ai paesi esteri noi siamo penalizzati come minimo di un 30%. L'iniziativa di Estra è sostenuta anche dall'amministrazione comunale. E' un'opportunità per le nostre aziende, quindi per il nostro territorio e proviene dalla società partecipata, più grande, più importante del Comune di Prato tramite Onsiag.